Buongiorno mister, ben ritrovato. Possiamo definire quella di domani con la resa una sorta di partita a spartiacque, nel senso che qualora arrivi una vittoria dopo i sette punti conquistati in queste tre ultime partite, la squadra potrebbe sentirsi super galvanizzata, crescerebbe l'autostima, si farebbe un bel salto di classifica, oppure nell'amalogurata ipotesi le cose non andassero come tutti speriamo, ci si ritroverebbe in una situazione in cui si dovrebbe parlare di sofferenza fino al termine del campionato. Allora, io penso che in questo periodo qua di dieci giorni, dodici giorni che sono arrivato, la squadra è cresciuta molto, sta acquisendo più sicurezza, più consapevolezza dei propri mezzi, attraverso le prestazioni, l'atteggiamento e anche i risultati. Quindi noi dobbiamo continuare a lavorare sotto questo aspetto qui, senza farci ingannare dalle squadre che incontriamo, perché l'ultima può essere la prima, la prima può essere l'ultima, non cambia nulla, nel giorno di ritorno tutte sono difficili, guardare a noi stessi e mettendo in campo quelle che sono le nostre caratteristiche. Quindi domani c'è l'Arezzo, giochiamo per vincere, giochiamo per vincere, giochiamo nel nostro stadio, dobbiamo un po' trascinare anche i nostri tifosi che sono stati sempre vicini alla squadra e con l'atteggiamento e con quella voglia di voler vincere di arrivare ai tre punti attraverso una grande prestazione, perché è questo che voglio. Poi domani è la partita con l'Arezzo, poi ci si pensa alla prossima. Quindi niente calcoli, niente voli pintarici, oppure siamo in una situazione sempre di play-out, davanti a noi per la salvezza c'è l'Ancona, dobbiamo raggiungere l'Ancona, il primo obiettivo possibile. Situazione praticamente, possiamo dire, consolidata, può rientrare qualche infortunato, facciamo il nome ad esempio di Tripardelli o di Saliani, oppure non sono ancora al meglio, non sono ancora in grado di reggere 90 minuti, poi in attacco Antenucci, lo abbiamo prescontato, più Petrovic, oppure qualche altra alternativa, non scordandosi che potrebbe esserci anche Rabi. Allora, sui terzini sinistri, finalmente, dopo un po' di settimane, ho a disposizione due terzini sinistri. Quindi Brusca Ginn non farà il terzino sinistro, probabilmente. Più avanti è Tripardelli di Saliani, perché Saliani è appena rientrato da, ha avuto due giorni un po' di... Vabbè, è appena rientrato, diciamo così, ha bisogno di qualche elemento in più, quindi avremo settimana prossima per portarlo nella condizione migliore. Quindi domani mi aspetto da Tripardelli, se dovesse giocare lui, e da tutta la squadra, una prestazione maiuscola, una prestazione dove c'è bisogno di equilibrio, di maturità, e soprattutto la voglia di vincere più dell'avversario, perché domani la differenza la farà questo tipo di atteggiamento, la voglia di vincere più dell'avversario. Brusca Ginn potrebbe giocare centrale? Centrale, perché Peda è squalificato, lui e Fidelizio sono i due che potrebbero giocare centrali, quindi li abbiamo provati tutti e due, vedremo chi sarà il prescelto. Alberto Benazzi, Radio Olcevita, buongiorno mister, io faccio un piccolo passo indietro, torno alla partita di fermo, la SPA ha sofferto tanto gli ultimi minuti, è stata un po' rinunciataria, se vogliamo, ecco, avete analizzato questa situazione, quali sono le risposte che lei può dare su questo atteggiamento? Ma più che l'atteggiamento, devo dire che la fermata l'avevamo studiata, avevamo visto sia Cesena, che il Cesena penso abbia fatto tre tiri in porta in una partita, vincendo 1-0 l'85esimo e con il Perugia nell'ultimo quarto d'ora la fermata ha avuto tre occasioni da gol, un palo, una grande parata di Adam Onis, il portiere del Perugia e un'altra occasione sbagliata a tremere la porta, quindi sapevamo che era una squadra che poteva concedere lo spazio per vincere la partita e lì non siamo stati bravi, come abbiamo fatto vedere ai giocatori, nei momenti in cui ci concentrano spazi per la qualità che abbiamo bisogna essere più concreti, più incisivi. Però sapevamo che bisogna sapere soffrire e questo mi è piaciuto per la squadra, è andata sotto, ha saputo soffrire, abbiamo pareggiato e alla fine sì, si poteva perdere ma si poteva anche vincere. Questo è il campionato che ci attende da oggi in poi, cioè da ieri, non da oggi, da ieri in poi, perché ogni partita tutte le squadre si giocano tanto e quando tutte si giocano tanto noi bisogna andare in campo con, ripeto, con equilibrio, maturità di squadra, ma soprattutto con voglia di vincere più dell'avversario, che oggi fa la differenza. Penso che la squadra nell'ultimo periodo abbia acquisito questo tipo di sicurezza e anche di forza, se si può dire. Bisogna dimostrarlo poi sul campo e domani in casa nostra, a casa nostra, vogliamo essere non protagonisti, super protagonisti per cercare di schiacciare e mettere le corde all'Arezzo, ben sapendo che l'Arezzo, per caratteristica, è una squadra che, transizioni, è fortissima, perché ha giocatori veloci, rapidi, nell'uno contro l'uno sono bravi. Ed è una squadra organizzata, perché hanno un allenatore bravo, che vi facciamo i complimenti, e fa giocare bene la squadra. Quindi bisogna fare qualcosa in più, metterci un po' più di testa o un po' più di cuore. Vorrei farti una domanda su Galeotti, che sembra avere conquistato la tua fiducia. Possiamo considerarlo il portiere titolare? A oggi sì, perché ho detto che ci volevano un po' di partite, e ci volevano un po' di partite, anche per tutti ci volevano un po' di partite. Enrico Alfonso dietro spinge come un dannato, e questo mi piace perché anche lui vuole essere protagonista, e questo fa parte di tutto il gruppo, perché tutti stanno spingendo forte. E quando un gruppo spinge forte, un allenatore è un po' più fiducioso. Diciamo che ha più fiducia nella partita, diciamo che si può vincerla, ma si può anche recuperarla, come è successo. E oggi la SPAL ha questo tipo di atteggiamento, ha questo tipo di forza. Dobbiamo continuare, dobbiamo dare forza alle tre prestazioni fatte, ai sette punti bisogna dare forza con un'altra prestazione di spessore alto. Marcello Ferroni, stense.com, buongiorno mister. Volevo chiederle, secondo lei, ritornando anche a quello che ho detto prima, magari la mancanza a volte di concretezza in attacco può essere, visti anche i numerosi progressi fatti comunque dalla squadra in queste ultime partite, ancora forse il punto sul quale deve migliorare di più, vista appunto anche con quella qualità importante a disposizione nel reparto offensivo. Sì, l'atteggiamento è stata la prima cosa che ho chiesto alla squadra, che dobbiamo cambiare l'atteggiamento per rispetto di tutti, ma anche di loro stessi, dei giocatori, perché per la qualità e per i valori che hanno, l'atteggiamento che abbiamo messo in queste tre partite mi è piaciuto moltissimo. E deve essere questo a ogni partita, perché i nostri tifosi hanno sempre chiesto questo, prima di tutto, e la squadra sta rispondendo bene a queste sollecitazioni. Per quanto riguarda la fase d'attacco, io penso che giocare più partite, più partite giochiamo, più proviamo e più succederanno le cose, e più verranno le cose positive. Ci stiamo lavorando, anche in questi tre giorni qua, settimana prossima abbiamo una settimana lunga, dove si può ancora andare a migliorare i dettagli, perché i dettagli fanno parte di questo periodo qua, fanno parte della differenza. E i dettagli, in fase d'attacco, sono proprio di andare a costruire le nostre azioni con velocità e con qualità che abbiamo. E io voglio questo, lo pretendo dai giocatori, perché abbiamo le qualità per farlo. E i giocatori stessi sanno che questa è la strada giusta per vincere più partite, è arrivare all'obiettivo. Quindi, dirti a che punto siamo, c'è ancora tanto da migliorare, questo è sicuro. Lo dico serenamente, perché io non mi nascondo mai su niente, sono molto diretto, come ben sapete. E sull'aspetto del gioco, voglio che la squadra acquisisca ancora più sicurezza, che si conorca ancora di più, e che guarda soprattutto più avanti, un po' più in verticale. Quando invece delle volte, quando c'è da giocare in verticale, ancora tendiamo ad andare all'indietro, che a me piace per fare un giro palla, ma deve essere costruttivo, e deve essere un modo per attirare la squadra avversaria, per poi imbucarla nei spazi e tra le linee. Per quanto riguarda la partita di domani, sottolineava prima come l'Arezzo sia una squadra molto pericolosa sulle transizioni, quindi come tipo di partita si aspetta magari che l'Arezzo possa fare una partita, non dico tendista, ma magari più di ripartenze, magari cercare di approfittare degli spazi che potrebbe concedere la SPAL, cercando di fare la partita, o si aspetta comunque una squadra che possa venire a Ferrara a cercare di fare la partita? Ecco, sono d'accordo sulla seconda. Vengono a Ferrara perché conoscendo l'allenatore, è un allenatore che chiude bene i spazi, gioca bene in verticale, hanno un'identità perché anche loro hanno ritrovato dopo un po' di tempo l'identità di gioco, e quindi è come la SPAL, sono due squadre in questo mondo qua forti, se posso dirlo. Forti, passatemi il termine, due squadre che giocano bene a calcio e due squadre che comunque se la giocheranno fino alla fine. Domani la differenza, ho detto, la farà la voglia di vincere, i dettagli, e se posso aggiungere, domani il nostro pubblico dobbiamo trascinarlo perché anche loro nei momenti decisivi possono fare la differenza. Quindi dipende molto da noi, sappiamo, ma noi siamo i primi a volerlo, e io sono convinto che se ci trasciniamo il nostro pubblico nel modo giusto, alla lunga, possono arrivare quelle situazioni determinanti per vincere la partita. Salve, mister Gazzola, Francesco Novaferrara, le chiedo, maestro, verrà riproposto, comunque sembrava che dopo Pescara qualcosa si fosse sbloccato, ecco, nel ragazzo, purtroppo non ha fatto una partita delle migliori contro la fermana, insomma, darà fiducia nuovamente al giocatore come ci ha già stato detto, che per entrare in forma, insomma, in condizioni, un giocatore deve giocare, lei tende a far giocare, insomma, è di questo pensiero anche per lui. Allora, qui quando parliamo di Maestro, Fabio Maestro, che è un giocatore di qualità, di spessore, che lo conoscete meglio di me perché l'avete visto da un po' di anni qui, si parla di giocatori di qualità alta, ma insieme a Maestro ci sono altri giocatori di qualità, perché noi abbiamo Edera, Silicardi, Dalmonte, Rao, adesso mi vengono in mente tutti quegli esterni che abbiamo che sono molto di qualità. Oggi noi dobbiamo andare a guardare solo una cosa, la squadra, la squadra, tutti devono stare dentro per la squadra, Maestro può giocare e gioca bene perché a fermo ha fatto le sue occasioni, non le è riuscite a fare quello che di solito fa, nel senso nella conclusione, quando ha concluso in porta, però le giocate le ha fatte da Maestro, quindi quello che mi aspetto da lui è quello. Ci ha fatto fare tre punti a Pescara, subentranto, ci poteva far fare tre punti a fermo, ma non per volontà, ma perché magari c'è essere un po' più preciso, ma Maestro, come tutti gli altri, è dentro al progetto. E quindi Maestro, che domani gioca dall'inizio, voglio che vada forte. Se gioca da 20 minuti, voglio che vada forte. Se gioca a mezz'ora, 5 minuti, gioca da forte, come tutti i giocatori. Oggi la SPAL è più importante di qualsiasi giocatore singolo. E dobbiamo guardare a questo, alla squadra. La squadra oggi sta dando risposte giuste e tutti devono sentirsi importanti, perché sono importanti per questa squadra. E li voglio importanti fino alla fine. Contigliano si caneta per una maglia di titolare? Insomma, è il momento di far rifiutare gli altri due? Guarda, penso che dall'inizio del campionato abbiamo cambiato la formazione tantissime volte. Giusto? Magari qualche volta è arrivata anche qualche critica. giustamente. Perché quando si cambia molto non si riesce a trovare l'identità di gioco, ma soprattutto uno zoccolo duro. Oggi sia Marcel che Carraro, in questo caso, che Marco, stanno dando due certezze, ma non perché dietro Contigliano non sia bravo. Io lo vedo in allenamento, è pronto, subentra, è subentrato molto bene. Sicuramente se vedo Marcel o Carraro che sono un po' affaticati, il primo che mi viene in mente è Contigliano da mettere in campo. Quindi deve lavorare come sta lavorando, un ragazzo, un gran ragazzo, ha tanta qualità anche lui, ha tanta voglia di dimostrare e il mister è qui che non vede l'ora anche di dargli le possibilità. Quindi se domani lo vedrete in campo sono convinto che farà una grande partita. Se subentrerà allo stesso modo. Ecco, in chiusura ti chiederei, mister, qual è la condizione atletica generale della Rosa? Cioè se gli ultimi arrivano un po' superato quel gap di forma che avevano quando si sono presentati o se c'è ancora qualcuno che ha bisogno di tempo per arrivare al 100%. Ma secondo me allora Geringhelli sta crescendo ha fatto due partite di 90 minuti che noi non pensavamo perché la prima partita che è arrivato qui ho visto con la Reganatese al 55esimo ha cominciato un po' a essere affaticato mentre nelle ultime due partite sinceramente ha fatto due buone gare. Marcel bisogna farlo giocare se lo vogliamo recuperare bisogna farlo giocare perché abbiamo settimana prossima una settimana di allenamenti per farlo crescere un po' di più quindi poi è un giocatore di grande personalità un giocatore che in mezzo al campo si sente magari delle volte è meno diciamo veloce o rapido degli altri però la sua personalità comunque fa bene alla squadra. Oggi abbiamo bisogno di personalità abbiamo bisogno di equilibrio abbiamo bisogno di gente che vada forte per cercare di arrivare alla vittoria attraverso quelle che sono le nostre caratteristiche qualità di gioco e atteggiamento quindi li vedo meglio e speriamo che possano crescere un po' di più perché il mio pensiero è che da qui che mancano 11 partite da qui altre due partite non ne possono solo che crescere e non decrescere Buongiorno mister Bergamini del resto del Carlino una domanda abbiamo assistito anche ad errori abbastanza importanti dei singoli insomma precedentemente mi chiedevo e le chiedevo quanto il fatto che la SPAL stia attraversando un periodo di forma può limitare anche gli errori dei singoli assolutamente sì solo questione di testa lo sapete anche voi la testa fa tutto muove tutto oggi tutta la squadra tutta la rosa è orientata a cercare di fare la prestazione più che il singolo giocatore è la squadra e i benefici si vedono ma non bisogna mollare di un centimetro non bisogna dare niente per scontato ogni vittoria per noi è un qualcosa di straordinario nel senso di non dico come straordinario come parlo di ma di classifica ok straordinario è la classifica perché abbiamo una classifica ancora molto difficile da valutare ok bisogna starci attenti alla classifica perché è una classifica che se non fai due risultati ti ritrovi nel calderone dietro dove adesso abbiamo un po' scollinato non stiamo scollinando dobbiamo continuare a pedalare forte in questa salita qui ce n'è ancora tanto da fare ma facendola insieme si fa meno fatica tutti stanno dentro il gruppo tutti possono essere protagonisti tutti stanno tutti stanno dando qualcosa delle proprie qualità dobbiamo lavorare in questo modo e insieme alla società e insieme anche ai nostri tifosi dobbiamo continuare a dare prestazioni di spessore le prestazioni di spessore fanno parte di questo DNA della SPAL io che sono il condottiere che sono allenatore devo essere bravo a motivarli ma soprattutto a livello di testa di renderli tutti importanti grazie